Sale ancora il numero di nuovi contagi per il coronavirus SARS-CoV-2 in Italia. Sono 1.851, ma a fronte di un maggior numero di tamponi che tornano sopra quota 100.000, 105.564 in tutto. Questo l'ultimo bollettino sulla situazione Covid nelle ultime 24 ore, 19 i morti e 1.198 i guariti. Le terapie intensive crescono invece di 9 unità. Per quanto riguarda la situazione a livello regionale, in maglia nera ancora la Campania con 287 nuovi contagi. Secondo il Lazio con 210 nuovi casi, seguito dalla Lombardia con 201. Il Covid-19 intanto ha colpito di nuovo la politica con due senatori pentastellati positivi. Test per tutto il gruppo, con il timore che si possano fermare i lavori del Senato. Negativi invece tutti i giocatori del Napoli, controllati dopo la positività di molti calciatori del Genoa, contro cui avevano giocato pochi giorni fa.